benvenuti ci troviamo nel dipartimento di biotecnologie e bioscienze che è proprio la sede dove vengono ospitati i corsi di laurea triennale magistrale in scienze biologica e biologia vi volevo raccontare qualche cosa riguardo a questi due corsi di laurea e soprattutto come sono incastonati all'interno delle attività di ricerca del nostro dipartimento il dipartimento di biotecnologie e bioscienze ha avuto il privilegio di essere stato selezionato tra dipartimenti di eccellenza il passato e noi abbiamo fatto uno sforzo per integrare le attività didattiche dei nostri corsi di laurea con quelle che sono le attività di ricerca che si svolgono nel dipartimento e sono attività intrinsecamente multidisciplinari proprio perché le sfide che la biologia moderna ci pone davanti sono anche delle opportunità sono anche delle opportunità che in qualche modo dobbiamo cercare di seguire di affrontare e da questo punto di vista i corsi di laurea sia triennale che magistrale sono stati recentemente soprattutto quello della laurea magistrale riformulati proprio per andare incontro a quelle che sono le esigenze che ci pongono le problematiche attuali per quello che riguarda la laurea magistrale abbiamo fatto un sforzo per creare individuare dei percorsi che fossero particolarmente attuali per quelle che sono le richieste sia dalla società civile ma anche di quello che è il mondo del lavoro e da questo punto di vista questi tre percorsi vogliono formare delle figure che possono andare a operare e a ricoprire ruoli di coordinamento in attività che vanno dallo studio della salute umana di quelle che sono le strategie per poter affrontare le problematiche relative a patologie come tumori malattie neurodegenerative problemi di tipo cardiovascolare che sono particolarmente attuali fino alla formazione di figure che invece hanno una profonda competenza nell'ambito ecologico ambientale della sostenibilità della salvaguardia della biodiversità che è un aspetto altrettanto fondamentale per quello che riguarda il rapporto tra l'essere umano e gli ecosistemi il percorso di studi della laurea magistrale in biologia da quest'anno offre maggiori opportunità per lo studente di scelta in particolare abbiamo pensato a tre percorsi il primo percorso si chiama la transizione ecologica ed è rivolto a quegli studenti che sono appassionati di studi della biodiversità dell'ambiente di valutazione delle risorse naturali e la tutela e la conservazione della biodiversità il monitoraggio la valorizzazione e ripristino ecologico il secondo percorso unisce l'uomo all'ambiente si chiama il percorso del one health ci piace anche più chiamarlo del global health pensando che un biologo del futuro debba essere una persona in grado di capire sì le caratteristiche di un organismo delle sue funzioni biologiche ma anche come queste si relazionano all'ambiente che lo circonda e l'ambiente può essere la propria abitazione la propria casa il proprio luogo di lavoro la propria città questo permetterà di avere dei biologi che hanno una visione più ampia più integrata di quello che è il benessere della persona ma anche il benessere dell'ambiente infine l'ultimo percorso che è quello un po più direzionato alla cura e la prevenzione delle malattie meccanismi molecolari delle malattie diretto a studiare una patologia o comunque un'alterazione metabolica una problematica fisiologica da tanti punti di vista con un approccio integrato e multidisciplinare perché un biologo di oggi deve sapere valutare tutta una serie di fattori che possono essere elementi alla base appunto di un'alterazione sistemica di un'alterazione biologica e quindi possa supportare il medico l'analista tutta una serie di figure professionali di identificare quali sono i percorsi terapeutici o di prevenzione più appropriati per garantire appunto il benessere della persona e migliorare lo stato di salute